benvenuti ad un nuovo episodio di gong 10 minuti con round 2 anche oggi prontissimi a raccontarvi l'attualità videoludica e si parte da una saga che alberga da anni nel mio cuore e di cui si torna finalmente a parlare in maniera ufficiale sto parlando della saga di legacy of kane perché dopo l'acquisizione di crystal dynamics e dell'ip da parte di embracer crystal dynamics stessa ha avviato un sondaggio ci abbiamo messo qualche giorno per capire se fosse davvero ufficiale perché la pagina la landing page di questo sondaggio è un po generico artigianale però è un sondaggio ufficiale con cui il team di sviluppo chiede ai giocatori che cosa vorrebbero vedere nel futuro di legacy of kane o meglio mi chiede anche se che cosa ne pensano di un possibile ritorno insomma del brand sul mercato e poi entra molto nel dettaglio facendo domande estremamente specifiche sì allora diciamo che il sondaggio secondo me come dire già l'esistenza sola dello stesso è un segnale incoraggiante però il sondaggio stesso che ovviamente invitiamo tutti a cercare online nel caso come dire a rispondere alle domande per far sentire la vostra voce secondo me nasconde delle cose su cui merita delle riflessioni delle sfumature esatto su cui ci sono delle riflessioni da fare anche perché se è vero che ci sta capire quella che è la dimestichezza di chi risponde con una serie che nel 1996 addirittura esordisce con blood home in legacy of kane e poi forse sboccia definitivamente con solo river che arriva nel 99 sì non solo sboccia ma raggiunge quello che secondo me è il suo apice perché i titoli successivi non hanno mai raggiunto lo stesso livello qualitativo e di ispirazione ma secondo me è proprio anche uno di quei casi in cui il 2 supera l'uno sì valori produttivi per momento c'era e è stato lì che si è cementata la leggenda un po di di raziel e dicevo in questo sondaggio c'è una grande indecisione e indeterminatezza nel senso che vengono buttate sul sul campo come come opzioni tantissime scelte che fanno capire come ci sia probabilmente l'intenzione concreta di riportare sulle scene appunto legacy of kane ma come non ci sia una visione molto chiara si parla di tanti aspetti diversi nel senso ti chiedono quanta dimestichezza hai con il franchise quanto ti ricordi di della trama quanto ti piacciono i vari personaggi ma poi si sconfina in cose della serie cosa vorresti vorresti un remake vorresti un reboot vorresti una remastered vorresti un seguito diretto ma soprattutto che genere vorresti per questo questa riproposizione includendo robe come uno strategico a turni una visual novel un beat em up un beat em up un mmo un gioco competitivo multiplayer cioè veramente la qualunque ed è questa roba che mi spaventa un po anche perché ricordiamo che il legacy of kane che abbiamo in mente e nel cuore tutti è rimasto un po la nel 1999 ma dei tentativi di riportare in auge la saga erano stati fatti sia con un gioco che non è mai poi stato annunciato ed è stato cancellato nel 2012 che soprattutto con nosgot che ti ricordi era una roba multiplayer che non ho mai veramente compreso perché sembrava un'operazione da prince of persia cioè so che lo vuoi ti do quindi una cosa diversa da quella che vuoi sì sono molto preoccupato anch'io che manchi una visione creativa portante che poi secondo me in realtà è quello che serve in tutti i casi cioè anche nel caso in cui volessero fare un reboot un remake ci sta però non è che lo devi chiedere al pubblico devi avere secondo me una direzione a me comunque la domanda che più spaventa è proprio quella a monte anche dei generi di appartenenza cioè vuoi un gioco single player multiplayer cooperativo multiplayer competitivo che sono tre diciamo prodotti completamente inconciliabili e quindi cioè come fai a partire con quella domanda lì vuol dire che neppure tu sai che cosa farci con questi p e però il paradosso vero e poi chiudiamo che abbiamo un altro argomento importante da affrontare è che cioè quello che rende unico legacy of kane oggi è l'essere diverso da tutto quello che c'è cioè quell'avventura pensa anche a quel tipo di level design di impostazione di atmosfera il protagonista che è di fatto un anti eroe tante sfumature che davvero hanno cementato il ricordo e la memoria di questo gioco sono l'essenza stessa per cui ok se ti ripropongo quello riparto chiaramente da quel dna che oggi ha valore poi adesso facciamo questa puntata annunciano 72 giochi uguali esattamente come era successo quando aveva parlato di dead space però quello che dico è è un unicum e quindi non dovresti prescindere da queste caratteristiche che rendono legacy of kane legacy of kane se tu mi metti tra le opzioni un gestionale oppure un gioco competitivo multiplayer dove stai andando a riprendere quei cardini no no è chiaro è chiaro cioè tu che detieni l'ip che l'hai pure acquistata perché adesso sei embracer dovresti sapere quali sono i suoi elementi portanti e quindi va bene indagare un po quelle che sono le opinioni del pubblico ma almeno dargli un ventaglio di possibilità che non sconfini nell'irreale perché lo voglio vedere un fps ambientato nel mondo di legacy of kane cioè sarebbe anche francamente vuol dire che non stai facendo legacy of kane esatto sarebbe un po inelegante in tutto questo senza entrare poi nel merito di questioni creative il fatto che esista questo sondaggio significa che c'è magari la volontà ma non c'è la certezza no assolutamente legacy of kane venga riportato anzi tra l'altro nel sondaggio stesso dice pure se facessero un altro gioco di vampiri della serie forse ci sta la nicchia dei vampiri ma non è sicuro che vuoi ritirare fuori legacy of kane ma voglio anche dire che seppure dovesse succedere ragazzi cioè mettete in conto che qui non siamo nemmeno nelle fasi di preproduzione perché non è scelto neppure il genere di appartenenza di questo prodotto cinque anni con serenità esatto ma proprio con grande serenità quindi mettetevi comunque l'anima in pace nella seconda parte di questa puntata di gong torniamo a parlare dell'acquisizione di activision blizzard king da parte di microsoft in realtà nelle scorse settimane abbiamo schivato qualche notizia perché un po come posso dire omologa rispetto alle questioni che avevamo già discusso nel senso che questa acquisizione è passata al vaglio di vari enti regolatori in brasile in america del nord in america del sud in europa però sostanzialmente diciamo che le notizie erano più o meno sempre le stesse semplicemente che qualche ente regolatore stava un attimo valutando la questione oppure dei commenti un po inaciditi di jim ryan o altri è vero jim ryan che è un po rosicato torniamo invece adesso su questa acquisizione perché è successa una cosa diciamo più importante ovvero microsoft ha aperto una sezione del suo sito ufficiale dedicata esplicitamente a questa acquisizione in cui non solo riporta varie dichiarazioni dei membri del suo team proprio dei virgolettati a me quella pagina che i virgolettati tra l'altro per data e col quote esatto mi fa specie perché vuol dire che della serie stai anche misurando le parole però insomma al di là di questi virgolettati proprio cita attraverso degli schemi e attraverso insomma dei dichiarazioni testuali assuntive la sua cita più che altro mette in mostra la sua visione di questa acquisizione ovviamente la visione secondo la quale questa acquisizione porterà un beneficio al mercato e un più ampio spettro di possibilità sia per gli utenti che per gli sviluppatori sì devo dire che il fatto che esista questo micro sito secondo me è già significativo e indica quanto comunque la comunicazione su un argomento evidentemente delicato sia preziosa sappiamo che in qualche misura sono stati coinvolti anche altre aziende a proposito di questa acquisizione e è una non notizia il fatto che sony stia cercando un po' di mettersi di traverso perché è preoccupata di equilibri di mercato che potrebbero essere sconvolti e diventare nel suo caso secondo la sua visione squilibri visione ovviamente parziale il fatto che xbox secondo me esplicitamente scelga di comunicare tra l'altro non in maniera b2b o di nascosto ma lo faccia proprio anche nei confronti del grande pubblico prenda posizione rispetto all'acquisizione con uno schema addirittura che mostra suddivise in tre colonne quelle che sono i vantaggi e le migliorie che porterebbe questa acquisizione al mercato rispettivamente per i giocatori per gli sviluppatori e per la community in generale fa abbastanza specie soprattutto c'è un passaggio che è impossibile non citare perché è abbastanza una meraviglia della paraculaggine in cui dicono che per l'industria in generale dicono che tutto ciò porterebbe una maggiore competizione nel gaming tradizionale in cui però cito testualmente Sony e Nintendo rimarrebbero comunque le più grandi e le più grandi cosa? cioè nel senso che non si capisce se è un omaggio e una resa al merito della competizione si alla posizione di mercato che loro hanno saputo guadagnare secondo me anche di prestigio non solo di mercato c'è poco della serie comunque voi siete arrivate prima se loro che quindi tributano un omaggio agli altri se sono le più grandi perché sono i più grandi sottinteso competitor se sono i più grandi nella mente del consumatore arrivo anche a dirci certo perché il punto è vabbè però loro comunque che se noi ci prendiamo Activision Bizarre King loro sono inarrivabili sono Playstation e Nintendo noi siamo gli ultimi inarrivabili non lo so però è un capolavoro secondo me di quella comunicazione americana esatto che è un po' sua dente un po' dice che un po' ti lecca il culo ma te lo lecca con la lingua del gatto esatto e non lo so fa molto specie e devo dire che è una battaglia anche combattuta secondo me sia con modi nascosti che chissà veramente che forze ci sono in ballo sappiamo che tra l'altro Jim Ryan si è incontrato veramente con è venuto apposta in Europa per parlare recentemente di questa cosa eccetera è una manovra chiaramente politica anche da tutte e due le posizioni ma mi fa molto specie anche come si cerchi di prendere posizione pubblicamente tra l'altro sostenendo il grosso della tesi di Microsoft dire no no ma assolutamente tutto resta così com'è anzi noi abbiamo il precedente di Minecraft nel 2014 abbiamo acquisito Mojang guardate che abbiamo tenuto il gioco dappertutto quindi assolutamente andiamo in quella direzione non vogliamo togliere col utente nessuno anzi tra l'altro dicono la stessa versione lo stesso giorno disponibile su piattaforma Playstation e citano anche Nintendo che è una cosa che non è mai successa no esatto sintomo che secondo me volontariamente magari la prossima console potrebbe non essere così lontana visto che comunque stanno parlando di sogna sogna sogno dei momenti futuri però ripeto fa tutto molto specie anche perché chiaramente secondo me sono dichiarazioni impolitichese e fuffa perché è chiaro che tu oggi stai dicendo delle cose che possono essere tranquillamente smentite domani ma non solo tu fai un'acquisizione del genere per non tenerti nemmeno poi delle esclusive importanti e vai a sapere cosa succede magari nella prossima generazione o alla fine di questa cioè è tutto molto indeciso e strano guarda anche senza postulare diciamo nessuna dietrologia è semplicemente vero che nella gestione aziendale le cose possono cambiare da un giorno all'altro l'abbiamo visto anche con Stadia e Google paradossalmente cioè magari le dichiarazioni di Microsoft sono vere oggi non significa che possano essere vere fra un anno quando magari cambia la dirigenza cambia la visione anche cambia la visione della penetrazione che il Game Pass deve avere sul mercato su determinate piattaforme quindi è chiaro che sono dichiarazioni stravaganti proprio perché non ti danno nessuna assicurazione sulla lunga distanza e in realtà è proprio sulla lunga distanza che devono guardare gli enti che poi regolano questa acquisizione acquisizione che al di là di tutto io credo che finirà per farsi anche Microsoft si dice molto ottimista che possa essere conclusa entro la fine del fiscale 2023 non si capisce se dice il suo fiscale che finisce a giugno o il fiscale generico che finisce a marzo diciamo comunque dai primavera dell'anno scorso esatto però dico è un'acquisizione che comunque sia una posizione di forte rilievo a Microsoft nel panorama del gaming la dà e che qualche avvisaglia o qualche sospetto qualche dubbio di monopoio lo crea anche perché se no non ci sarebbe stato diciamo tutto questo discorso e tutta questa attenzione attorno a un'acquisizione che resta comunque epocale e come dicevo prima Francesco banalmente non l'avrebbero pagata così tanto se investi così tanto è perché in ballo c'è qualcosa di potenzialmente clamoroso cioè quando hanno preso Bethesda a nessuno gli è venuto in mente di fare così tanti controlli e così di insomma su questa scala certo certo assolutamente sì assolutamente sì comunque diciamo che era un aggiornamento dovuto in una una storia a puntate che siamo certi continuerà anche prossimamente e che ovviamente continueremo a raccontarvi a prescindere da poi come finirà grazie mille per averci seguiti anche in questa puntata di Gong torniamo domani con l'attualità e come sempre tutti i giorni dalle 10 alle 12 su Twitch venite a trovarci è anche il modo migliore per supportare il nostro canale abbonandovi o regalando degli abbonamenti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti